E niente, chi è? Chi è? Un ragazzo che ha fatto un po' di rapine si trova in galera. Devi farmi le domande perché se no non riesco a... Cioè qua giù c'è dissalatore, salamatori, produciamo l'energia elettrica. E la felicità non mi manca neanche qua dentro, diciamo, per quello che sia la felicità in un carcere. Grazie a tutti.